A questo punto, avendo salvato queste due immagini, quindi un punto di partenza ce l'abbiamo sempre, e ricordiamo che se non si salva su Iris si perde tutto, ciò che ci interessa bisogna assolutamente salvarlo, c'è una prima elaborazione che consiste in un comando chiamato A-S-I-N-H, A-SIM, è sempre per averlo letto 0.003 spazio 3. Con questo comando l'immagine che risulterà evidenzierà un po' di più i filamenti della nebulosa, ma sarà leggermente disturbata. Questo disturbo si può attenuare applicando un filtro Gauss, e io in questo caso gli metto un valore sigma di 3,50. Facciamo ok, e il risultato finale sarà un'immagine già fruibile, abbastanza ben definita, in cui, come vedete, i filamenti vengono fuori. Dopodiché, proseguendo con le prime elaborazioni di Iris, che poi andranno perfezionate con un altro programma di trattamento delle immagini, tipo Photoshop o qualsiasi altro che sia all'altezza, si fa rossomo de la dynamique, cioè aumentare la dinamica della foto. Io, per pratica, lo metto a 70, la forza, e quindi viene una mezza specie di nebulosità intorno alle stelle, ai filamenti, e poi regolo con l'intensità. L'intensità, in genere, la metto tra 115 e 120. Proviamo con 120, viene un risultato accettabile, e gli diciamo ok. Ok. Infine, si fa il contrasto, cioè regola il contrasto. Il contrasto io, in genere, lo metto a 30, e come vedete, come si vede, il cielo diventa abbastanza scuro, e quindi gli faccio ok. A questo punto salvo di nuovo l'immagine, sia per il formato che serve a Iris, quindi save nc1, avevamo salvato con save nc1, e salvo lo stesso risultato con il formato Photoshop che poi andremo a recuperare, quindi save psd2c1. Diciamo che a questo punto l'elaborazione, allora l'allineamento, la somma, e la prima elaborazione dell'immagine, la primissima elaborazione dell'immagine, potrebbe essere conclusa, e noi abbiamo salvato i risultati. Un altro forzamento, perché a volte diventa forzato, di elaborazione, potrebbe essere la somma di qualcosa. Quindi se sul menu trattamento si va su addition, quindi somma, si può sommare un valore numerico, che io non ho mai sperimentato, oppure si può sommare un documento già esistente. Questo documento che io ho davanti si chiama nc1, ma io precedentemente avevo salvato, nel formato Iris, su un documento nc. Quindi lo vado a cercare, nc, e lo trovo qui, gli dico apri, e gli dico va bene. A questo punto mi somma il programma nc1 a nc. Andiamo a vedere che il risultato otteniamo. Otteniamo che i filamenti della nebulosa sono ben visibili, però l'immagine è di nuovo disturbata. Per cui introduciamo un altro filtro di Gauss, o Guss, non so come si dice, del valore di 2,50, e vediamo quello che scappa fuori. Questo filtro ci mette un attimino di tempo per essere applicato. E continua l'immagine ad essere abbastanza chiara. Allora proviamo di nuovo con una regolazione del contrasto, lo rimettiamo di nuovo a 30 come prima, vediamo quello risultato che otteniamo. Non è tanto dissimile, ma ho l'impressione che i filamenti si vedano di più. A questo punto salviamo solo per il formato Photoshop, perché diamo per conclusa l'elaborazione con Iris. Save, PSD2, NC2, e mentre stavo scrivendo, ecco perché la titubanza, l'altro PSD2, non ho scritto NC, ma ho scritto solo C1. E quindi adesso andremo a recuperare i documenti salvati. Chiudiamo il programma Iris, andiamo sulla cartella Iris lavoro, e quindi abbiamo NC2, che è un documento che io già avevo precedentemente salvato, che è questo, poi è C1, perché mi sono sbagliato e non ho scritto NC1, lo mettiamo fuori, e poi NC, ma NC già lo avevo salvato nella precedente elaborazione. A questo punto si possono cancellare tutti i documenti inclusi nella castella Iris lavoro, a meno che non si abbiano altre foto da elaborare che avessero gli stessi ISO e lo stesso tempo di esposizione. Quindi conserveremo, in questo caso, il cosmo, il dark, il flat e l'offset, e butteremo soltanto le immagini elaborate. Allora le selezioniamo e le eliminiamo. Quindi nella nostra cartella Iris lavoro rimane il pretrattamento, cioè le immagini da usare nel pretrattamento già predisposte, sempre ovviamente che si tratti di altre immagini che abbiano lo stesso, gli stessi ISO e gli stessi tempi di esposizione. Spero di essere stato chiaro e adesso interrompiamo la registrazione.